Effettuare la progettazione di primo livello dell'impianto di videosorveglianza per cui sarà richiesto il finanziamento che prevede fra le altre cose la produzione di una relazione generale, dei elaborati grafici e del computo metrico estimativo preliminare dell'impianto di videosorveglianza e starà pubblicata sull'albopretorio del sirio istituzionale del comune di Sulmona la determina firmata dal comandante della polizia locale Antonio Litigante che affida a una società di Reggio Emilia servizio attinente alla progettazione di primo livello del sistema di videosorveglianza da realizzare i cui elaborati, redatti con le modalità di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici sono stati presentati ieri a corredo della domanda di finanziamento alla prefettura dell'Aquila con la stima economica all'indicazione della quota di cofinanziamento l'importo complessivo dell'affidamento ammonta 3.416 euro il progetto rientra nel patto per la sicurezza urbana siglato nei giorni scorsi in prefettura dal sindaco Ana Maria Casini e dal prefetto Giuseppe Linardi Sulmona si candida quindi al progetto di ampliamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza che prevede anche un finanziamento ex articolo 5 numero 14 del 2017 il progetto ripositato ieri costituisce il secondo step dell'intera iniziativa che vede Sulmona e altri comuni in campo per la sicurezza al progetto si vanno ad aggiungere 30.000 euro fatti ai locali in bilancio dalla consigliera Roberta Salvati per l'installazione di nove telecamere in città come in via Solimo e via Vezzano mentre ancora nulla di fatto per la gara d'appalto sulla manutenzione un tasto dolente per una città che finisce spesso la ribalta della cronaca dagli uffici comunali l'avviso pubblico non arriva e nemmeno gli inquirenti sarebbero in grado, in tempi brevissimi di scaricare le immagini delle telecamere già installate se non attraverso procedure lunghe e farraginose grazie a tutti grazie a tutti